Oh la pula, guardate quell'auto della polizia, è successo qualcosa, pare stiano cercando una pista, un altro raptus, non ce la faccio più, che abbia a che vedere con quei poster che abbiamo visto, hanno arrestato i ladri fantasma, se vi piacerebbe Tan 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 Oh, senza di noi? Ho sentito che hanno catturato un criminale, la gente dice che era stato annunciato da una lettera di sfida, oh lo sapevo, li ho visti a Shibuya, il forum dei ladri fantasma è attivissimo, il forum, come si chiama, voglio vederlo, vai su www.mishimaebravo.com Tutto curvo, accidenti, che caldo Hai sentito stamane al telegiornale la notizia dell'arresto del boss mafioso? A quanto pare qualcuno ha sparso lettere di sfida per tutta Shibuya, prima del suo arresto, ricordi lo scandalo di Kamoshida, pare che anche allora fosse stata spedita una lettera di sfida, e anche nel caso di Madarame se non sbaglio Credi che si tratti del ladri fantasma? Sarebbe notevole, non riesco a credere che rubino i cuori davvero, era l'altro, vabbè fa niente E invece dovrete crederci ragazzuoli Nemmeno il nostro dipartimento contro il crimine organizzato è riuscito a prendere Kaneshiro, eppure si è costituito e ha confessato tutti i suoi crimini I ladri fantasma Manipolare il cuore di qualcuno è un reato, con quei metodi sì, ha perfettamente ragione Anche se questo dovesse indurli a confessare servisse a farli pagare per i propri crimini commessi Spero che non si sia fatta influenzare E invece, non si è fatta influenzare, è lei ad aver influenzato I ladri fantasma Maledizione Akechi Piccolo zunderino E cuci cuci cu Contro i ladri fantasmini, lui Ho saputo che il capo del giro criminale che stava seminando il caos a Shibuya è stato arrestato Non c'è nulla di che Anche qualche nostro allievo è stato a loro vittima, perciò tiriamo un sospiro di suo allievo Ringrazio la polizia per aver arrestato il colpevole, sebbene abbia fatto il suo dovere In ogni caso, colpevole è un termine poliziesco, l'avrete sentito spesso in qualche serie tv Da qualche stella come Colombo A proposito di stelle, star, puoi rispondere a questa domanda, star sun? Sembra che sia fatta apposta questa cosa C'è neanche a farlo apposta, veramente A proposito di stelle, star sun, rispondi tu La somma degli angoli da A a E è uguale alla somma degli angoli interni del poligono 180 gradi Di quale poligono si tratta? Di un triangolo? Esatto La somma degli angoli interni di un triangolo saranno sempre uguali a 180 gradi Quando è planare Wow, sul serio, è stato bravo, dover chiedegli gli appunti, Yarujaneiga Ormai va bene così In ogni caso, corre voce che siano stati i ladri fantasma a catturare il colpevole Kaneshiro Ricordo il loro nome nella vicenda di Madarame, oltre che nell'incidente di maggio È una leggenda urbana? A ogni modo, vedete di prepararvi per i test di mercoledì e non fatevi distrarre da certe voci Si direbbe che abbiamo avuto successo con Kaneshiro In molti stanno parlando dei ladri fantasma Possiamo andare in ememento e vedere se adesso si è aperta la nuova porta, no? Oh, guardaci tutti qua Cazzo, sì, Kaneshiro ha finalmente confessato Dopo l'annuncio della polizia, la gente non ha parlato d'altro È duro accettare che le autorità si stiano prendendo tutto al merito del suo arresto Però su internet stanno tutti andando fuori di testa per i ladri fantasma, guardate Finalmente si comincia a ragionare Un'interessante inversione di tendenza Tutto ad un tratto, la gente sembra credere in noi Ecco perché Makoto ci aveva suggerito di esporre la lettera di sfida dove tutti potessero vederla Astuto da parte sua Oh, ma dov'è la nostra mitica miss presidentessa? Passata da stronza a mitica, però vabbè, dai, ci sta Pronto? Sono io, Makoto Vi chiedo scusa, ma oggi non potrò esserci Come mai? Devo partecipare a una riunione con il preside Niente di cui preoccuparsi comunque C'è una notizia più importante In tv hanno mandato uno speciale sull'ladri fantasma Eh? Cosa diceva? Hanno parlato delle nostre lettere di sfida Sul serio? A ogni modo, mi spiace per oggi Sarà per la prossima volta Di nulla, vai tranquilla Chi era? Chi vuoi che sia? Davvero? Ma che figata! Spero solo che tutto questo entusiasmo non attiri l'attenzione della polizia Possiamo stare tranquilli È impossibile che vengano a sapere di un altro mondo assurdo, dai È vero, ma... Ricordate cosa ha detto il falso Kaneshiro verso la fine? Un intruso nel metaverso Vero, è preoccupante Già, ha detto che non siamo gli unici a farlo Beh, sai che me ne frega Magari stava solo sp... Sparando un mucchio di stronzate Spero che sia questo il caso E comunque... Beccati questa, Kechi Ora che si fa con il prossimo obiettivo? Non correre troppo Comunque, ora la gente avrà grandi aspettative per la nostra prossima mossa Visto l'entusiasmo generale Sai che non mi ricordo chi ha il prossimo obiettivo? Ah no, ora me lo ricordo Non possiamo più scegliere i bersagli da sfigati ormai Non c'è alcuna fretta comunque Incluso che a Moshida abbiamo ottenuto tre vittorie consecutive, giusto? Dovremmo tenere un basso profilo fin quando non si saranno calmate le acque In tal caso, perché non festeggiamo di nuovo? Ottima idea Possiamo dare un party di benvenuto per la nostra miss presidentessa E quella valigetta? Cacchio, quella roba è costosa Vendiamola e usiamo i soldi per la nostra festa Wow Pare che l'idea di tenere il profilo basso sia proprio andata a farsi benedire Ciao Allora, tu non parteciperai, Morgana? Eh, di cosa stai parlando? Volevo dire che a tenere un basso profilo dovrebbe essere la nostra festa E questo è lo spirito giusto Beh, allora, avviso Makoto Ehi, amica, festeggiamo Makoto, ciao Ci siamo dimenticati di dirti una cosa Allora Oh? Qualcosa non va Non vi state dimenticando degli esami finali di settimana prossima Yusuke e Morgana esclusi, è ovvio Se non volete dare nell'occhio Vedete di non prendere i votazzi, ok? È una cosa sulla quale non potrei sorvolare In qualità di presidente del consiglio studentesco Per ora, comportatevi bene e concentratevi sui vostri studi Ci divertiremo dopo gli esami, ok? Oh, sì Cavolo Io volevo divertirmi Salve Vuoi darmi la spiegazione? Credo fermamente in quello che ho scritto I ladri fantasma sono dalla parte del giusto Hai scoperto chi sono? No, e non ho la minima idea Dopo aver esaminato i fatti, sono giunta alla conclusione che non vi è errore nel loro operato Pertanto, dopo aver scoperto che si trovano dalla parte del giusto Ho deciso di chiudere la mia indagine È mai impossibile Impossibile? Potrebbe mostrarmi le prove che la spingono a una tale conclusione? Sai, a proposito della tua lettera di raccomandazione per quella prestigiosa università Non ce ne sarà alcun bisogno Intendo accedere all'università grazie ai miei meriti personali Ora, se non le dispiace Te, preside, stronzo Vaffanculo Ehi, non abbiamo ancora finito Cazzo Ho perso anche lei Pronto? Signore, sono io Scusi il disturbo A proposito di... Sì, sto portando avanti la cosa Tuttavia ho incontrato qualche difficoltà Eppure, perché mai una persona importante come lei si interessa a un caso così insignificante? No, non volevo dire questo Indagherò con tutte le risorse a mia disposizione Certamente Dovrei poterla aggiornare relativamente presto Sì, le porterò buone notizie Bene, grazie mille per la sua... Mi ha messo giù Non conto un cazzo Maledizione È la voce che ho deciso di dare a lui Visto che patrocone tutto rospo Lui... Sono a casa Ciao, sorella Sembri stanca Va tutto bene? Non preoccuparti per me Tu stai bene, Makoto? Sei al passo con i tuoi studi? Sì, certamente Però mi chiedo In fin dei conti A cosa serve studiare? Oh no Cosa intendi dire? Mi chiedo Cosa mi attende alla fine di questo percorso? Pur superando i test di ammissione Verrei comunque scaraventata in una società competitiva Cosa dovrebbe esserci nella vita oltre al successo? Non farvi domande così infantili Quello non è l'uomo preso di mira dalla drifantasma Pare che abbia confessato tutti i suoi crimini Nemmeno la polizia è riuscita a capirne il motivo È stato un vero fulmine al cielo sereno Avrebbe senso solo se una sua personalità fosse cambiata Ma è una cosa impossibile Che importanza ha? È stato comunque catturato dalla polizia, giusto? Puntavo a una promozione Ma con questa confessione Nessuno potrà vantare il suo arresto Non che una bambina possa capire certe cose Io non sono una bambina Allora è vero Stava seguendo il caso Guarda come... Che sguardo che c'ha Porca troia Una promozione Sorella Sei cambiata Non sei più la stessa Bro Ma io Non ho nulla da temere Ho finalmente trovato il mio posto Oh Makoto Sono felice che tu sia felice Guarda, giuro Oh, kaitaka Ah no Come va? Sembri rigare dritto Ma... Non pensare di battere la fiacca Solo perché sta arrivando l'estate Intesi? No, tranquillo Devo studiare per gli esami Questa reazione è incredibile Mi stupisce parecchio È naturale che la gente sia sorpresa Anche la polizia aveva difficoltà a catturarlo Già, tra l'altro Hai detto che il preside ti ha chiamata È successo qualcosa In relazione In relazione alla mia indagine Sull'incidente con Kamoshida Non preoccupatevi Non ho detto nulla di voi Anche perché avresti sputtanato te stessa Quindi Ho detto solo che non ero stata in grado Di trovare informazioni Grazie Makoto Non c'è di che Non sarò più una studentessa modella A tutti i costi Da adesso in poi Voglio essere me stessa È una sensazione nuova Cosa farai adesso? Vuoi rimanere con il ladri fantasma? Esatto Sempre che non vi dia fastidio Benvenuta a bordo Sarebbe piuttosto un problema Se tu non rimanessi Dovremmo permetterle di unirsi Sarà di enorme vantaggio Non era già in squadra Praticamente Cioè Anche con te Yusuke Quando ti sei unito Eri già nella squadra Bene Spero che continueremo Ad andare d'accordo Assolutamente Una consigliera eh Questa nuova compagna di squadra Promette molto bene Potremmo fare ancora di più ora Sicuramente Allora Ci scrive Kawakami Yes Akechi-kun Akechi-kun E c'è scritto anche Kawakami Io pensavo che la nostra relazione con lei fosse finita Non avendo accettato il rapporto amoroso Io pensavo che Finisse lì Guarda Mi dispiace A me dispiace davvero tanto Iwai Ma mi scrivi sempre Nei momenti Sbagliati L'altra volta Yoshida Oggi c'è Kechi In realtà anche se non ci fosse stato Akechi C'era I fumi Mi dispiace Ma tu sei poco utile A questo giro Ti darò attenzione più avanti Te lo prometto Ma ora no Ora veramente mi sei inutile Iwai Mi dispiace Mio caro Akechi Per essere sicuro Che il nostro rapporto vada bene Prima di tutto Paghiamo lei per avere la sicurezza Questa lettura ti costerà 5000 yen Vai Leggimi tutto Voglio Akechi nella mia vita io I tuoi sentimenti dovrebbero aver raggiunto l'altra persona Scommetto che ora puoi rafforzare la vostra amicizia Beh per oggi è tutto Spero di esserti stata utile Non così tanto Però ti ringrazio lo stesso Vorrei essere un attimo onesto con voi Quando ho visto Questa persona la prima volta Io la volevo in squadra a tutti i costi Cioè è bellissima come estetica Mi piace un sacco Angelo Ma ha una debolezza Che non è copribile La pistola Il gun È l'unica debolezza Il gun Che non si può coprire con nulla Il fisico possiamo annullarlo Assorbirlo O rifletterlo Tutte le varie debolezze elementari Come appunto la maledizione che anche lei è debole Si possono coprire Ma il gun È l'unica cosa Che non ha un item Che non ha una skill card È un peccato L'avrei usata volentieri questa Leggiamo quello che ci dice Kawakami Oggi ti contatto non come Becky Ma come tuo assegnante C'è una cosa di cui voglio parlarti Sei libero? Mi dispiace Ma no Non oggi purtroppo Ti dovrò chiedere di venire un'altra volta Kawakami Vorrei mostrarvi C'è un posto che vorrei mostrarti È un posto sperduto Ma ci sono affezionato Qui quantomeno potremmo rilassarci un po' L'incidente dell'altra volta non ricapiterà Per fortuna Ci stavo per andare Vuoi unirti a me? Porca troia Kechi Meno male Io voglio credere Che sia stato il fatto Di essere uscito con lui Tanto per l'altro giorno Che ci ha portato a questo Perché se no non so spiegarmelo Andiamo con lui Bene Grazie Ci vediamo Kechi oggi Ti aspetto Immagino che dovrò trovare qualcosa da fare nel frattempo Stare nella borsa? No Morgana Pa 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 ra pa 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 ra ra ta Oh finalmente Il Jets Club Bravo Kechi Eccoci È un posticino alquanto carino Non è il miglior modo di scusarsi per l'incidente al caffè Ma qui saremo al sicuro Sono un habitué È bello prendersi una pausa di tanto in tanto Non trovi? Che tipo di posto è? È solo un Jets Club Se hai fortuna puoi ascoltare alcuni artisti eccezionali qui Mi piace proprio questo tipo di posto Credimi Mi fa piacere vederti così interessato È ragionevole supporre che tu abbia già visitato luoghi simili prima d'ora A ogni modo entriamo Ora puoi visitare il Jets Club Yes Finalmente Cazzo sia Kechi Ebbene Perché non ordiniamo da bere? Qualche consiglio? Niente di specifico Ma se per te non è un problema Vorrei fidarmi all'istinto Non ci sono soft drink in particolare che disprezzi Vero? Basta che non ci sia la menta dentro E poi per il resto a me va bene tutto Ecco a voi Grazie per l'attesa Ecco il vostro ordine Oggi è in programma un'esibizione speciale Spero vi piaccia Inchia Un'esibizione dal vivo? Hai voglia? Sembra che lo spettacolo sia iniziato Rilassiamoci e godiamocelo Certo Buono sto robo viola Mi è piaciuto ascoltare musica con Akechi Ah che relax Mi piace proprio venire qui È un posto fantastico Veramente Veramente fantastico Mi fa piacere sentirtelo dire Obbligo e lavoro mi hanno condotto in un bel po' di caffè e ristoranti Ma questo è il più speciale Credo si possa definire la mia oasi Anche tu hai un posto simile Conosco un caffè fantastico io Oh davvero? Adesso mi hai incuriosito Dovresti portarmici un giorno Certo come no Ti ci porto subito se vuoi Perciò sei venuto a Tokyo da solo E ora vivi nel sottotetto di un caffè Notevole Quasi fiabesco Sono una moderna cenerentola Ma devo dirlo Ti invidio Avrei forniture limitate di caffè e curry La mia dieta fa schifo a Kechi Mangio solo curry La mattina La sera E anche il pomeriggio Come merenda Anche io vivo da solo Ma raramente ho il tempo di cucinare A proposito Tu cucini? Piuttosto di frequente Sì Sono bravo Caspita Davvero notevole Per quanto mi riguarda Non ho molta esperienza Persino i miei sforzi Nel corso di cucina Si sono rivelati Deludenti Non ti dico come sfiletto il pesce Solitamente vengo qui Quando ho bisogno di un po' di tempo Per riflettere Su per conto mio Ma chiacchierare qui con te Risulta un piacevole diversivo Sai Sei la prima persona Che porto qui Non che la celassi agli altri Ma Immagino significhi Che abbiamo un qualche tipo Di strana connessione Oh Akechi Mi stai confessando I tuoi sentimenti? Che cosa abbiamo ottenuto oggi? Maestria Perfetto Chance di rivela E tutte le affinità Di un nemico All'inizio della battaglia Questo non è male Grazie Akechi Ah Si è fatto tardi Credo che sia il caso Di andare Ma non abbiamo finito i drink Beh ci vediamo Ciao Akechi Buonanotte Piripipip Chi è? Ehi sono io Ci saresti per una chiacchierata ora? Assolutamente La musica oggi era magnifica Le band che suonano dal vivo Hanno sempre una marcia in più Del jazz Adoro le jam session Un mare di improvvisazione Complesso ma anche organico Ogni musicista aggiunge il proprio tocco E dal caos nasce una melodia naturale Quella strana sincronia eretica Mi provoca la stessa euforia Che provo quando risolvo un caso Un po' lo capisco La confusione che crea meraviglia Bene mi fa piacere Averti portato con me Credevo che portando qualcuno Intellettuale al passo con me Avrei avuto maggiore fortuna Il jazz è uno stile ricco e complesso Mi piacerebbe sedermi a parlarne con te Prima o poi Certo Puoi venire al caffè a parlarne Ah È ora di andare Quando sto con te A volte tendo a parlare più del necessario Aspettati un altro invito Ora Se vuoi scusarmi Buonanotte Akechi Ciao Oh Akechi finalmente Stiamo dormendo Incredibile Ah stavolta niente Igor Direttamente andiamo Così di cattiveria Da Sae Ah la droga Non essere ridicolo Il vostro nuovo alleato era Makoto Finiscila Dimmi la verità Conosci già la verità invece Makoto È assurdo Se quel che dici è vero Allora anche Makoto Stava fuggendo dalla polizia Quando sei stato arrestato Non posso dirtelo Ora che ci penso A partire dall'estate Ha parlato spesso dell'indagine Makoto è a parte Hai accennato a un altro dettaglio importante Davvero Kaneshiro Ha parlato di un'altra persona Che fa uso del metaverso Oltre ladri fantasma Sì Potrei anche pensare Che stai solo cercando Di scaricare la colpa Su qualcun altro Sai È la verità Purtroppo Però in tal caso Che motivo avresti di inventarti Una storia tanto elaborata Ci sono due possibilità O hai semplicemente cercato Di confondermi con le tue bugie Oppure tutte le dichiarazioni Corrispondono alla verità Tutto quello che hai fatto Che hai detto Fin dall'inizio È tutto vero? Non ho motivo di mentirti Significa che intendi Riporre in me La tua fiducia D'altra parte Sto indagando Su un ladro Che ruba i cuori Bene Per quanto sembri assurdo Riconsidererò La mia posizione Voglio crederti Per adesso In cambio Mi dirai la verità E nient'altro Che la verità È un accordo equo Lo trovi accettabile? Certo Ho stretto un patto Con Sai Nijima Ah no Stavolta no Io sono te Tu sei me È appena stretta Una nuova alleanza Essa diverrà le ali Della ribellione Capaci di spezzare Le catene della tua prigionia Con la nascita Di questa persona Il giudizio Mi sono concessi I venti sacri Che condurranno La libertà E ha un nuovo potere Anche il giudizio Ora è della nostra parte Colpo del giudizio Supremo Procuratore Scusate Non so perché Ho fatto il kick over Per un attimo Non ci resta molto tempo Passiamo al vostro Obiettivo successivo A dire il vero Dovrei esprimermi meglio Sono stati loro A prendere di mira A voi per primi O sbaglio L'identità del vostro Avversario È questa Mad Jed Non abbiamo fotografie E non conosciamo Neanche la loro generalità Se ciò che hai detto È vero Questo Navi di cui parlavi Non avrebbe funzionato In questo caso Come li avete trovati Raccontami tutto Il mio prossimo obiettivo Il risunto della storia È stato aggiornato Domenica I ladri fantasma Hanno risvegliato Il suo cuore Giusto Davvero I ladri fantasma Sono incredibili Non è fighissimo Come risvegliano Il cuore della gente Come fanno A far ripentire Delle loro azioni È interessante Chi saranno mai Eh Un giorno Magari lo scoprirete O magari no Ehi Sei lì Vieni giù Perché stavamo Fissando Morgana In posagendo Comunque Chi è venuto A trovarmi Ah no Dobbiamo aiutare Su giro Ehi Dai un'occhiata Agli ingredienti Nel frigorifero Certo Ehi Che succede Oh Non è quella giusta Non ti piace La stampante Non va bene È quella Che mi hanno Consigliato Al negozio Eh Va bene Ma Non è quella Che volevi Ok Arrivo subito Oh La mia domenica La passo qui Quindi Potrebbe volerci Un po' Lasciate il locale Se non dovessi Tornare Chiudi il posto Mio Ricevuto Capo Ti devo Un favore Accidenti Che peste Di chissà Chi parla Dove sta andando Su giro E queste erano Le ultime Otizie Sull'indiziato Giulia Kaneshiro Pare che a far Immergere Questo caso Siano state Le azioni Dell'adri Fantasma E lei Come la Pensa Non conosciamo I loro metodi Ma sono convinto Che costituiscano Una serie Minaccia Per questo Paese Questa Pericolosa Banda Viola i cuori Delle persone Non è così Diverso Dal lavaggio Del cervello Capisco Ha perfettamente Ragione Chissà Di cosa Si tratta Una cosa Del genere Non era Già successa Qualche tempo Fa Come si Chiamava Sai Quell'artista Famoso Parli di Badarame Quella Persona Orribili Sono state Punite Giusto Allora I ladri Fantasma Non sono Nel torto Meno male Che gli anziani La pensano Come noi Sarà Però E tu Cosa ne Pensi Giovanotto Secondo te I ladri Fantasma Stanno facendo Qualcosa Di sbagliato Certo Che no Siamo bravi Noi Visto Anche lui Dice che Stanno facendo Del bene Oh cielo Guarda che ore Sono Sarà meglio Tornare a casa Ho ragione Grazie di tutto Giovanotto Di nulla Signore Sì Ho ricevuto I rapporti Sul caso Di Kaneshiro Ma Che i ladri Fantasma Stiano tentando Di attuare Una cosa Tanto assurda Come una riforma Sociale Ha proprio ragione Anch'io Trovo preoccupante Tutto questo appoggio Da parte Dell'opinione pubblica Inoltre Con le loro Ripetute azioni C'è ritmo Che si venga a sapere Del metaverso Ah Quindi tu lo sai In realtà Una delle contromisure Introdotte da lui Potrebbe Rivelarsi Praticabile Comporterebbe L'autodistruzione Dei ladri Fantasma E non dovremmo Neanche intervenire Direttamente Faremo in modo Che questi Arresti mentali Sembrino Operar Loro Ah L'ho pensato Anch'io Avevo la sensazione Che fosse un po' Troppo brutale Per essere una sua idea Eppure Se penso che Pur di schiacciarli Lei stia elaborando Un piano tanto Dettagliato Le loro azioni Devono essere Proprio una Gra secatura Per lei Ha tutta la mia Comprensione Bene dunque Daremo una bella Ripuglietà E ci lasceremo Tutto alle spalle Sì Un'impresa ambiziosa Come una riforma sociale Va ben oltre La possibilità Del ladri fantasma In pochi Sono degni Di cambiare Il mondo E chi potrebbe Esserlo più Del futuro Primo ministro Signore Un politico Quindi Chissà chi è Sojiro Non è ancora Tornato È Ryuji Ehi Sono io Dove sei Che fai Faccio le veci del capo Sto gestendo il locale Capito Stiamo venendoli da te Per fare tu sai cosa A dopo Che cazzo volete fare Scusami Come va Dai Rilassiamoci un po' Non siamo qui per questo Dobbiamo studiare Per gli esami Ma che ci faccio qui Ora sei una di noi Quindi ci devi dare una mano Siamo nei casini Se non ci dai un po' Di ripetizioni Non ho bisogno Di studiare io Sono bravo Oh Guarda che ti prendo in parola Facciamo a chi Becche voti più alti Io Ti ricordo che sono Il primo studente Di tutta la classe Anzi Dell'istituto Ryuji Sta al tuo posto Beh Lasciamoli perdere L'ultima volta Non ho avuto modo Di chiederlo Ma Che posto è questo Non vedo il proprietario E perché è uscito Sai Oggi non c'è E dove vive questo qui Davvero E la sua storia È un po' Complicata Possiamo diglielo Vero Anzi Diggielo tu Oh beh Va bene Ma Ma è terribile Oh Makoto empatizza Io Han e Yusuke Veniamo da situazioni Abbastanza simili Ma Lui è passato di peggio Però Non possiamo accettare Quello che gli è successo È per questo Che siamo diventati Ladri fantasma Ehi Non scordarti di me Lo so Lo so Facciamo tutti parte Della squadra E tu Makoto C'è qualcosa che non puoi perdonare Tipo Un cuore che vorresti risvegliare È un segreto Oh Qualcuno c'è Allora A noi puoi dirlo Sai Non devi essere così fredda A parte questo Non avete intenzione Di studiare Per gli esami Non molto Allora È un problema Se me ne vado No Scherzavo Per favore Dacci una mano Cos'era questo termine? Finisce per fobia Quindi deve essere Tipo una paura Credo sia la paura Degli spazi aperti Comunque Non si usa molto spesso Le frasi più lunghe Lasciatele a me Ci penso io Anche se Con la grammatica Faccio un po' schifo E allora Che cacchio vuol dire? Che me ne faccio Di studiare l'inglese Tanto non lo userò mai Credo che userai Più l'inglese Che il giapponese Fuori dal giappone Ryuji Per quanto ti riguarda Neanche il tuo giapponese È un gran che Bravo Morgana Ma smettila Spiega le sensazioni Dell'autore Ma che senso ha? È impossibile Non posso imparare Tutte queste formule A memoria Non c'è modo Di imbrogliare No Ryuji Devi studiare Perché non facciamo Una pausa E questi erano Gli ultimi aggiornamenti Sul caso di Giulia Kaneshiro Dunque Hc-san Si dice che Per far emergere Questo caso Siano state Le azioni Del ladri fantasma Ma Sarà vero? Credo che non si Che non vi sia Alcun dubbio Vista la diffusione Su larga scala Delle lettere di sfida La vera domanda è Cos'hanno fatto Realmente Ladri fantasma? Hanno manipolato Il cuore Del sospetto In tal caso Quanto può essere Veritire la sua Confessione? Dunque Violando i cuori I ladri fantasma Potrebbero anche Inventare Di sana pianta Crimini inesistenti È una possibilità Sì È vero I ladri fantasma Stanno portando La luce In giustizia Fino ad oggi Rimaste nell'ombra Tuttavia Queste azioni Agirano Il sistema legale Il loro modo di pensare È molto pericoloso Quindi In un certo senso Sono dei fuori legge Esatto Non sono diversi Dai criminali A cui danno la caccia È qualcosa Che non possiamo ignorare Capisco Capisco Un corno Perché ci trattano Come fossimo i cattivi Dicano pure Quello che vogliono La gente sta iniziando A capire Che quello che facciamo È giusto È questo Ciò che conta Intanto Yusuke Continua a scrivere Quando vado in giro Sento sempre Un sacco di gente Che parla di noi Per non parlare Dei commenti sul forum Dite che stavolta Abbiamo fatto Di bo Abbiamo fatto il botto Adesso non vi montate La testa Risparmiate l'entusiasmo Per quando avremo preso Un vero pezzo grosso Già Dobbiamo solo Buttarne giù Uno ancora piuttosto No D'altronde Era questo il piano È vero Forse dovremmo Cominciare a pensarci Secondo me Non dovremmo Aspettare molto Ormai abbiamo Il vento a favore Ho la sensazione Che potremmo vincere Contro chiunque Beh Decideremo più in là Prima dobbiamo Pensare agli esami Beh La pausa è finita Rimettiamoci a A proposito È il nostro party Non dovevamo Organizzarlo dopo gli esami Sì Credo di sì E dove andremo Riuscirò a studiare meglio Sapendo che mi aspetta Qualcosa di bello L'ultima volta Andammo a un buffet Di un hotel Da allora Non abbiamo organizzato Più nulla Un buffet Potrei riempirmi Per una settimana intera Dove potremmo andare Ehi Credite dei fuochi d'artificio Sì Un festival pirotecnico Sì Possiamo proprio Siamo proprio Nella stagione adatta Per me va bene È dura ignorare L'idea del buffet Ma mi accontenterò Delle meraviglie Della stagione estiva Tuttavia Esigo che si banchetti Anche durante il festival Con quali soldi Yusuke Ragazzi Avete uno yukata Lo indosserete Un festival pirotecnico Non vi sembra Un'ottima idea Lo pensi anche tu Vero È un'idea grandiosa Sicuramente Perfetto Vada per i fuochi d'artificio Cerchiamo un festival Come si deve Lo studio prima di tutto Però Non la passerete liscia Se prenderete anche Un solo brutto voto Intesi? Sì signora Perfetto Vada con i fuochi d'artificio Cerchiamo un festival Come si deve Guarda un po' Chi è che ci sta spiando Lo studio prima di tutto Non la passerete liscia Se prenderete anche Un solo brutto voto Intesi? Sì signora Sono un hacker io Fuochi d'artificio Yukata Beh è periodo Sembra una buona idea Ehi Ho trovato un blog Molto inquietante Quasi psicotico Che non è ancora Apparso sul forum Lo ucciderò Lo ucciderò Lo ucciderò Dice solo questo Secondo alcune voci Parla del suo fidanzato Sembra pericoloso C'è il rischio Che prima o poi Faccia qualcosa Di molto brutto E la faccenda Peggiore ancora Pare sia uno studente Della Shujin Conosce una certa Yumeko Mogami Sta sempre vicino Alle aule Del secondo piano Per favore Dovete intervenire Prima che le cose Precipitino Eh 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 Questo per noi È un'ottima opportunità Il risveglio del cuore Di Kaneshiro Deve aver provocato L'apertura Di nuovi strati Del memento Cerchiamo di parlarne Tra di noi Di al ritrovo Una nuova richiesta Ma aspetterò Prima di andarci Morgana Ah Sojiro Sei tornato Ciao Senti Non stiamo tanto a discutere Ti conviene Non creare problemi Intesi Ah wow Che cattiveria Miau Ottimo lavoro oggi Si è fatto tardi Meglio restare a casa Per stasera Quindi non posso fare nulla Aspetta Forse posso chiamare Kawakami Dobbiamo pensare a domani Chiamiamola un'altra volta A quanto pare no Ti alleni un po' Ma si dai Facciamolo Aumentiamo subito I punti vita Così Ok lavoro Mettiamo la prova Il tuo spirito combattivo Era da un bel po' Che non facevamo Allenamento a casa E Morgana Vuoi prendere qualcosa? Il frullato proteico Non voglio sprecare Quelli grossi Per Per l'allenamento A casa Cominciamo Cominciamo A casa Facciamo l'allenamento In casa Solo per farvi vedere Come lo fa Pare che tu abbia acquistato Un po' di forza Già 7 HP Più quanti Dal frullato 3 1 Meglio di nulla Dai Beh si sta facendo tardi Perché non fai Non fai una bella dormita E una doccia Vediamo Che dice la gente Chissà qual è l'obiettivo Dei ladri fantasma Per risvegliare i cuori Scelgono i criminali Forse c'è qualcuno Che chiede loro di farlo Ah giusto Non hanno mica Un forum O roba simile E se bastasse Fare una richiesta lì Per vederla realizzata Eh E adesso appaiono Milioni di richieste Ti prego Ammazza mia nonna Che è cattiva Con me mi picchia Che deliziosa mattinata Come va? Non mi aspettavo Che ladri fantasma Potessero acciuffare Un latitante Così imprendibile La rete Li supporta E questo è preoccupante Avendoli attaccati Ora mi ritrovo In un vicolo cieco In qualsiasi intervista Continuano a chiedermi di loro Beh Giustamente no? Tuttavia Sarà corretto dire Che i ladri fantasma Sono dalla parte del giusto Solo per questo motivo Lascia pure che la gente parli Sii convinto Delle tue convinzioni Grazie Però Noto che non Stai dando ragione A ladri fantasma Anche se forse Non è stato corretto Da parte mia Formulare una frase In questo modo In origine Indagavo sui casi Di arresto mentale Non trovi che sia simile Al risveglio del cuore Praticato da ladri fantasma? Mmm A pensarci bene Le loro azioni Ricordano i casi Di arresto mentale Per la frequenza Delle vittime È impossibile Che non scorgere Un legame Ah scusa Non voglio farti fare tardi Ci vediamo Ciao Akechi Buona giornata Akechi 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 E' ancora più affollato Del solito E ora passiamo al notiziario I titoli del giorno Boss del crimine Confessa I componenti chiave Del clan criminale Sono stati arrestati Un raptus improvviso Incidente sull'autostrada Il bilancio delle vittime Sale a quattro Tokyo da scoprire Assistere allo spettacolo Pirotecnico Del 18 luglio Kaneshiro ha sputtato il rospo Quell'organizzazione Criminale Sta lentamente cadendo a pezzi Meno male Stiamo diventando Sempre più famosi Meno male Sta funzionando allora Oh Una nuova interrogazione Anche oggi Oh Maruchi Finalmente Gli esami si avvicinano State studiando So che alcuni di voi Si affidano Alle maratone notturne Ma lo sconsiglio Incasinano la memorizzazione Quindi quello che abbiamo fatto L'altra sera È stato inutile Benissimo Oh A proposito Sapete la differenza Tra memoria A corto e a lungo termine In poche parole La memoria a breve termine È temporanea Mentre quella a lungo termine Resta Ma va Lavorando a breve termine Avete un ostacolo enorme Memorizzate solo Sei Forse sette frammenti La capacità La capacità della vostra memoria A lungo termine È incredibile Infinita Secondo certe teorie Bene allora Starcoon Cosa ne pensi? I ricordi a breve termine Restano con voi Solo per pochi secondi Detto questo Quanto a lungo Pensi sia possibile Conservare i ricordi A lungo termine? Perciò vuole sapere Quanto a lungo Trattieni i ricordi A lungo termine È tosta Memoria a lungo termine Ricordi che durano a lungo Già Qualcosa del genere A ogni modo Li conservi a lungo La domanda è Quanto a lungo? Maruki aveva detto qualcosa Sulla quantità di ricordi Che possiamo trattenere No? Possiamo mantenere Un'infinità di ricordi Sì Se avessi uno spazio infinito Allora In linea teorica Potresti riuscire A memorizzarli Per Sempre Per sempre Sì Sono d'accordo Perciò Le cose stanno così I ricordi a lungo termine Non scompaiono mai davvero Coreda Esatto Sono colpito Fondamentalmente Le informazioni Codificate Nella vostra memoria A lungo termine Restano per sempre I ricordi a breve termine Diventano a lungo termine Tramide la Reiterizzazione Vi piacerebbe Poter codificare Tutte le risposte Ai test Nella memoria a lungo termine Bello sognare È piuttosto in gamba Non lo aspettavo Forse non è così male Yarujaneiga Maruki È sempre interessante Parlare con te Peccato che Mi vuoi poco Ultimamente Ma almeno Ci sono le vacanze estive Una volta finiti gli esami Quindi studiate come si deve Ok Io non riesco proprio a pensare Che Maruki possa avere 50 anni L'altra volta ha detto Che è un uomo di mezza età Io continuo a pensare Che lui abbia 30 anni Non ci sono informazioni Sulla sua età La gente ipotizza Sia Un trentenne Massimo quarantenne Io continuo a dire Che secondo me Ha sulla trentina d'anni Secondo me è sicuramente Più grande di Takemi Ma più piccolo di Kawakami Non di tanto Kawakami secondo me Sarà sulla quarantina Lui No Secondo me lui Sui 30 Già i ricordi non se ne vanno mai davvero Quindi forse ricorderò il mio passato Prima poi Sicuramente Morgana Ci crede Ci credo anch'io Credimi Oh guarda un po' Ushimaru 18 luglio Giorno del mare Non dovrebbero esserci problemi Gli esami finiscono il 16 Di cosa stai parlando? I fuchi d'artificio Cose del genere Le trovi in fretta Torna a studiare Ryuji Farò domani Ehi Siamo a lezione Parlatene dopo Che palle Ehi star Tu Fai attenzione Presta ascolto Quando qualcuno ti parla Questo mi ammazza E io schivo Sa che te Te Becca Wow Quella si che è stata una schifata epica Non riesco a credere Che abbia schivato Un lancio di Ushimaru Una specie di ninja Campione del mondo Dell'88 Va a fa' culo star Oh E ha tirato l'attenzione Funtiti star Ero campione del mondo Nell'82 Io Oh Ciao Makoto Phoenix Kun Vai a casa E' raro incontrarti a quest'ora Eh già Oh Ora che ci penso Ricordi le consulenze del dottor Maruki? Pare siano sempre più popolari Mentre uscivo da scuola Ho visto qualche studente andare in infermeria Gli insegnanti dicono che la sua presenza è utile Ma penso che sia popolare per qualche altro motivo Perché è carino Forse dovrei scoprirlo io stessa prima o poi Ma non dovevamo studiare Certo lo farò comunque una volta tornata a casa Fa parte della mia routine quotidiana Apprezzo il pensiero Ma che mi dici di te A seconda dei risultati degli esami Potrebbe non esserci alcun festival De fuochi d'artificio Te ne rendi conto Vorrei provare a sbagliare ogni singola risposta Per vedere se effettivamente poi ci andiamo o no Al Come si dice Al festival Però no Le farò tutte giuste Cacchio Sto scherzando Ecco appunto Ma avviti di studiare Va bene? Certo Alla fine Fai schifo Però ci andiamo dai Perché sono buona Tornando a casa Devo comprare alcuni libri Per la preparazione agli esami Ci vediamo Ciao Makoto Star senpai Oh ciao Che sorpresa Stai tornando a casa anche tu Certo Anch'io Oggi il mio club non ha gli allenamenti Ora che ci penso C'è una cosa di cui volevo parlarti Pensi sia un buon momento adesso Certamente Grazie Perché non ci sediamo da qualche parte? Va bene Eh? Star kun E tu sei Ne è passato di tempo Akachi-san E lo stesso vale per te Yoshizawa-san Giusto? Quando è che si sono incontrati Loro? Scusa Ah ecco appunto Non mi ricordavo Vi conoscete? Mio padre lavora per la Per la rete tv Ah Davvero? Hai mai visto Good morning Japan? È mio padre che lo dirige Ho partecipato molte volte Allo show come ospite E così ho conosciuto Yoshizawa-san Oh Avete un rapporto Voi due eh? Non mi posso fidare Di nessuno di voi Allora Non avevo idea Che la conoscesse anche tu Star kun Il destino eh A volte È mia amica Mi ha tirata fuori Da un guaio di recente E ora mi offre I suoi consigli Eh Un guaio eh Capisco Quindi Cosa stavate tramando Voi due? Oh già Stavo giusto per dare Delle notizie incredibili Non c'è nulla da nascondere Posso vuotare il sacco subito Ricordi quella competizione estiva Di cui ti avevo parlato? Sono stata scelta Come rappresentante del club Ce l'hai fatta Bravissima Anche se a me Sembra solo un punto Un punto di partenza Sbaglio il tuo club È considerato alquanto prestigioso E tu sei la rappresentante Devo dirlo È davvero notevole Grazie Farò del mio meglio Per rendere tutti orgogliosi Anch'io farò il tipo per te Ehi Ho un'idea Visto che siamo qui Tutti e tre Perché non andiamo insieme Da qualche parte? Oh Siamo tutti amichetti noi Potremmo approfittarne Per festeggiare il successo Di Yoshizawa-san Sarebbe fantastico A te sta bene Star-senpai Vorrei poter mettere Un meme adesso Ma Credo sia spoiler Certo A me va bene Allora è deciso Vi spiace Se scelgo io il posto Conosco una caffetteria Qui vicino Che sarebbe ideale Certo Facci strada Certo Andiamo Che alla fine Stiamo andando A kiki Oggi Yoshizawa-san Prendi bevande calde Per fino d'estate Devo evitare Che il mio corpo Si raffreddi troppo Visto che le gare È ormai Visto che la gare Ormai le porte Capisco Stai facendo in modo Di non lasciare nulla Al caso Anche la tua Non bevanda calda Kechi Ottima osservazione Beh Alcuni ritengono Che anche il caffè caldo In realtà In freschi Perciò Tendo ad evitarlo Immaginavo Che ti piacessero I dolci Che ci san Me lo sono inventato Giurerei di averti visto Mangiare del pane dolce Fritto in tv L'altro giorno Non dei pancake Fa tutto parte Della strategia Di marketing Sono trovato efficienti Per ringraziarsi Le folle E poi A me piacciono I pancake A quanto pare Nemmeno tu Lasci nulla al caso Mi sento ingannato Da parte tua Presentarsi sotto Una buona luce Non dovrebbe sorprendere Cazzo A rileggere queste robe Con il senno di poi Tutte frasi del genere Sia da parte sua Sia da parte di lei Ti fanno pensare A mille cose Santo cielo Mi sorprende invece L'ingenuità Che trasmetti Mi stavo chiedendo Come vi siete conosciuti Voi due La sua classe Di scienze sociali Ha fatto visita Sul set di un programma Televisivo In cui ero ospite Ah è vero Quelli del secondo anno Vanno in gita Dalla rete tv Durante le riprese Abbiamo avuto Uno scambio di vedute Ho trovato intrigante Il suo modo di pensare E adesso Siamo amicati del cuore Ci teniamo I mignoli così Davvero L'approccio di star senpai Alle cose Aiuta spesso anche a me Ora che mi sovviene Yoshizawa-san Hai detto che lui Ti sta dando alcuni consigli Sì Come dicevi tu Il suo modo di pensare Mi intriga Pensavo che Avrei potuto trarne beneficio In tal caso Propongo un giochino Una roba a tre Akechi Ti darebbe fastidio Se ti ponessi una domanda Che ho già rivolto a lui A suo tempo No Fai pure Dunque La domanda è Che opinione hai Dei ladri fantasma Yoshizawa-san I ladri fantasma Intendi nel caso In cui esistano davvero Giusto Devo ammettere Che aiutare la gente In difficoltà È davvero un gesto ammirevole Ma non sono assolutamente D'accordo Con i loro metodi Davvero Capisco Quindi Puoi spiegarci il perché Temo che L'esistenza Dei ladri fantasma Non gioverà La società A lungo andare Come mai Beh ad esempio Ritengo che ogni Ognuno debba affrontare I propri problemi Da solo Non è un po' contraddittorio Ti stai facendo aiutare Per risolvere I tuoi problemi Però Kasumi Ricevere aiuto Va benissimo Ma alla fine Aspetta a noi Innescare il cambiamento Davvero Duraturo Temo che Un punto di vista Un punto di vista interessante A questo punto Voglio sentire la tua Che ne pensi Dell'opinione Di Yoshizawa-san È stata sicuramente Un'opinione utile Concordo È stato alquanto Illuminante Anche per me Aspetta Non sarei un fan Dei ladri Fantasma Star Senpai No Non intendevo Scatenare una discussione È che a volte Non riesco proprio A trattenermi Passiamo a un argomento Un po' più leggero It's meme time Siamo tutti contenti E felici Scusate Ma credo sia il caso Che io vada Se resto fuori casa Fino a tardi I miei inizieranno A preoccuparsi Giusto Allora concludiamo qui Buona fortuna Per la tua competizione Farò il tipo per te Sì Grazie Ci vediamo allora Ok Ci grazie Di aver passato La giornata con noi Ok Ha invitato i tuoi amici Per una sessione di studio Come lo sai Niente mi sfugge Questo è il mio locale Ricordi Capisco cosa ci succede dentro Solo guardando i tavoli Ah sei un esperto Vediamo chi è che ha bisogno Di me invece Gli esami sono deprimenti E pratica con lo shoji Devi fare pratica ogni giorno Per diventare brava shoji Vieni in chiesa Se vuoi fare una lezione Aspetta Ah no Ieri Eravamo chiusi in casa Stavo dicendo Ieri era domenica Che stupido Ifumi sta aspettando in chiesa Vuoi andare da lei Non ancora Voglio prima vedere Se shojiro È influenzabile oggi Allora Ciaia Mi fai un attimo Una lettura Dell'affinità Vorrei vedere Se shojiro Se è influenzabile Questa lettura Questa lettura ti costerà 5000 yen Va bene Vediamo se adesso Sojiro Sì cavolo Finalmente Sojiro Era da un sacco Che non facevamo più niente Con Sojiro Scusami i fumi Ma stasera Sto con Sojiro Sojiro è da un bel po' Che non facciamo una chiacchierata Ora che hai imparato come si fa Un aiutante anche piccolo È sempre utile Oggi mi darei una mano Certo che ti darò una mano Cosa vuoi fare adesso? Aiutiamo Sojiro Ti insegnerò come si prepara Un buon caffè Ma il gusto finale Dipenderà solo da te Era da un bel po' Che non facevamo nulla Con Sojiro Ok Oggi proveremo a preparare Una tazzina di caffè da zero Fai molta attenzione Questi sono Chichi colombiani Tostatura media Grana medio fine Non far bollire troppo l'acqua Ok Non preoccuparti Ti seguirò passo passo Grazie Sojiro Mmm Non male Anche se in definitiva Chiunque è in grado Di mettere il caffè sul fuoco Preparare una miscela Invece è tutt'altra storia Miscerare i chicchi A caso Non serve a nulla Questo perché L'acidità e il sapore finale Dipendono dal rapporto Tra i vari tipi di chicchi Sorpreso? Vorrei saperne molto di più Mi mancano i tuoi consigli Sul caffè Oh Ma che entusiasmo Se sei davvero così interessato Prova pure a sperimentare Miscelando i chicchi Come vuoi Ma giù le mani Dai chicchi più costosi Intesi? Va bene Adesso passiamo al curry Il suo sapore è speciale Sai Tempo fa Una mente geniale Ha scoperto la perfetta Combinazione di spezie Ed abbinare il mio caffè Centra la quantificazione Del gusto Non so come funziona Ma il risultato È ottimo A ogni modo Carità Vorrei che fosse così gentile Anche con me Se non intende Se non intende ordinare nulla Può andarsene Cortesemente Sto aspettando una telefonata Non ho tempo per chiacchierare Può anche rispondere Può anche rispondere come è presente Nel frattempo potrei parlare Col suo giovane amico Finché non squilla il telefono Possiamo chiacchierare No? O la cosa le crea problemi Beh Pare che suo giro Sia nei guai Cosa dovrei fare Chiamiamo suo giro Al telefono Di nascosto Clic 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 Ah Ecco la chiamata Dei servizi sociali Che stavo aspettando Vengono qui piuttosto spesso Per accettarsi Che il nostro amico Stia lontano dai guai Glieli presento Oh Giusto In effetti Anch'io ho un po' di cose da fare Ripasserò un'altra volta Ma non ha nulla di meglio da fare Forse è meglio Se ti spiego Di che si tratta Potrebbe ripresentarsi In mia essenza Quell'uomo È una mia vecchia conoscenza E in questo momento È a corto di denaro Sembra molto amichevole Vero? Beh Non farti ingannare È tutta una recita la sua Ma va Davvero? Ammetto però Che sei stato molto in gamba A prendere l'iniziativa Mi hai salvato Grazie Sento che il mio legame Si sta rafforzando Tutto quello che vuoi So giro Carrie delle Blanc Oh Ma pensa un po' Io già lo so fare il Carrie Solo non capisco Perché ti interessi Dei problemi altrui È molto più facile Ignorarli Perché Sei gentile con me So giro Ti voglio bene Evidentemente Sei così di carattere Oh È già l'ora Lo denuncerei alla polizia Se non fosse per lei Lei chi? Oh Lascia stare A ogni modo La giornata è finita Chiudi e vai a studiare O a fare quello che vuoi Cioè Riesco a scorgere la bontà d'animo Di suo giro Grazie So giro Ti voglio bene La tua bontà d'animo Mi tocca nel profondo Chi è? Ehi Phoenix Scusa per oggi Non volevo coinvolgerti Nelle mie questioni Forse Non dovrei dirlo Ma se quel tipo Dovesse presentarsi Quando non ci sono Ignoralo Ok Lascialo fare E continua a lavorare Hai capito Capito Capo Bene, qualunque cosa ti dica, non farti innervosire Sei ancora in libertà vigilata, quindi non fare casini, va bene? Certo D'accordo, mi fido di te, a dopo A dopo, a domani, ormai Grazie